Ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti Vedi questa cassetta? Non è né troppo grande né troppo piccola. Cosa potremmo farne? Ma, secondo me potremmo farla diventare un vassoio. Basterebbero due maniglie. Ho già qualcosa anche da farti vedere. Ah, allora all'opera. All'opera. Per schierare il legno e la scritta, per dare ancora di più l'effetto vintage, usiamo l'acqua ossigenata con il batufolo di cotone per tamponare. Non viene fuori ancora niente. E devi lavorare, dai, dai. Hai visto che bello effetto, una volta asciutto? Molto bello. Ma cosa ne dici se aggiungessimo anche un fondo di carta? Giusto, lavabile? Sì. Questa mi piace molto. Taglia. Ora mancano solo le maniglie. Sì, pensavo di usare delle maniglie un po' raffinate. Contrastano anche con l'aspetto rude della cassetta. Cosa dici? Belle. Ok, scendiamo qua. Appoggia. Hai visto come ti semplifica la vita, un avvitatore? Sì, e adesso finalmente un bel vassoio. Di, 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 di. Grazie.